Segnale assente, canale oscurati, tv che si vede male o non si vede proprio, sono gli inconvenienti che stanno incontrando molti cittadini lucani alle prese con il passaggio definitivo dall'analogico al digitale terrestre. Il vecchio tubo catodico è stato spento del tutto in Basilicata, nell'arco temporale 24 maggio 8 giugno, ma in molte aree della regione si stanno verificando disguidi e disservizi. A sottolinearlo è il consigliere dell'MPA, Mollica, che lamenta il mancato pronto intervento della regione. Secondo Mollica, molto probabilmente non si è ancora provveduto a sostituire le attuali infrastrutture analogiche con apparati digitali e la motivazione è che non sono state impiegate risorse sufficienti o non è stato dato il giusto peso alla questione. L'esponente dell'MPA ha invitato infine il Corecom a intervenire per tutelare i cittadini con una fattiva pratica imparziale. Grazie. Grazie.